È uscito da poco il nuovo libro dei Wuming, Altai, pubblicizzato e noto anche e soprattutto per essere l'attesissimo seguito di Cook, il romanzo che ha portato questo collettivo sotto un altro nome ovviamente al successo e forse uno dei loro romanzi più importanti. Quello che si può leggere da questo libro non si può racchiudere tutto all'interno del discorso, questo è il seguito di Cook, assolutamente no. Altai è prima di tutto una storia, quindi è la storia di un uomo che potremmo definirlo un agente dei servizi segreti del Doge a Venezia che a un certo punto si ritrova per una serie di vicissitudini braccato, inseguito, per un'identità che lui in realtà aveva a sua volta rinnegato, quindi si ritrova su malgrado, braccato ed è costretto a scappare da Venezia e trovare, andare a cercare un'altra casa. È anche una storia che ovviamente è calata all'interno del panorama storico del Mediterraneo. La storia nasce lì dove Q finisce, cioè siamo ancora a Venezia e siamo 15 anni dopo le ultime avventure dell'eroe senza nome o con più nomi di Q. Quindi siamo alla vigilia di quella che noi chiamiamo la battaglia di Lepanto e diciamo che se d'altra parte non si può dire che questo romanzo sia incentrato assolutamente su questa battaglia, ecco però diciamo che tutto il romanzo, tutti anche gli intrighi che si costruiscono vanno verso questa battaglia anche perché rappresenterà quello che è un vero e proprio scontro importante per quello che riguarda il panorama europeo. Quindi siamo ancora con i fantasmi delle guerre di religione ma diciamo che il panorama si è decisamente espanso rispetto alle guerre di religione e anche il punto di vista si è radicalmente montato. Dico il punto di vista perché quello che succede in questo libro è anche la scoperta di altri mondi, ossia noi attraverso le parole del protagonista poco a poco prendiamo coscienza, parliamo a conoscere anche culture lontane da lui e scopriamo anche quelle che sono le sue origini. Nel corso della sua vicenda il protagonista, a cui potrei dare anche un nome a questo punto, nel senso che inizia col nome di Manuel, si sposta fino ad arrivare a Costantinopoli. Quello che succede è la descrizione, o meglio la conoscenza, si impara a conoscere il mondo di Costantinopoli in tutte le sue culture, ma ci sono anche pagine che descrivono gli odori piuttosto che le strutture, piuttosto che anche quelle che sono mentalità mentali diverse, anche onestamente un diverso tipo di intrighi rispetto a quelli di cui si leggeva in cui. Insomma è un'altra cultura che effettivamente noi poco a poco impariamo insieme al lettore. Lo facciamo anche, e questo è uno degli elementi che forse risalta anche di più, attraverso un uso della lingua abbastanza specifico, nel senso che l'impressione che ho avuto io è che soprattutto in certi casi, quando si va a parlare di tradizioni, delle tradizioni culturali piuttosto che religiose, ho avuto l'impressione proprio che ci fosse un'attenzione nei confronti addirittura delle scelte delle parole che fosse molto ricercata. Per fortuna si vede, infatti. Adesso è uno spartimento, ma... Ma no, a me è adatto. No, no, figurati, per me... Ulteriore cosa che metterei un attimo a valore nell'analisi introduttiva di questo libro. Quello che ho notato è anche un libro comunicativo, nel senso che parla con altri libri. Cioè, è come se fosse, non solo con Q, che è in qualche modo l'origine non tanto magari nella trama, ma può essere l'origine, secondo me, culturale proprio, del mondo di Altai, ma parla anche con libri che sono usciti recentemente da anche altri autori che non siete voi. Credo che in questo si inserisca anche tutto il dibattito sul New Italian Epic. Credo che ci sia stato effettivamente anche un'esigenza di confronto con altri autori, magari a voi più o meno vicini. Sto pensando a Carlo Lucarelli, a Massimo Carlotto, tra l'altro, approfitto, Carlo Lucarelli sarà anche ospite di Bartleby fra non molti giorni, quindi avremo anche opportunità di chiedergli qualcosa in merito. Abbiamo dei tetti bellissimi. L'impressione è che io, a un punto, sia un libro che dialoga proprio con altri libri, che non sia introspettivo al massimo, ma anzi tenda a esplodere. Un'ultima cosa, così la smetto anche, Credo ci sia anche un altro libro, oltre a quegli usciti recentemente, con cui Altai dialoga. Ho un'impressione personale che però credo di aver riscontrato. È un libro di Melville, che è Moby Dick. Nel senso, io ho molto l'impressione che Altai sia anche... Ci ho beccato? Grazie. Per chi non avesse sentito al piano di sotto, hanno detto che sono il primo che l'ha beccato. No, l'impressione che ho io è che come Moby Dick è una testimonianza, colmi Ismael. L'Ismaele del Moby Dick è il testimone di chi ha visto l'inferno. Anche questo, anche Altai, per come l'ho visto io, è una testimonianza. Già il fatto che la prima cosa che a me è parsa strano è che fosse scritto al passato, come qualcuno che racconta a qualcun altro. è una testimonianza del desiderio di costruire un sogno. C'è una degli nodi tepantici su cui si fonda il libro, è la ricerca di uno Stato per il popolo giudaico. Ma non è, almeno, adesso vediamo se ho beccato anche questo, non è solo questo. Nel senso che il tentativo di cercare un paese che nel libro è reificato nel tentativo della conquista di Cibro e di darlo appunto al popolo giudaico, non è solo un discorso religioso. Si dice esplicitamente che bisogna cercare una casa anche a tutti quegli eretici che sono dovuti scappare dalle guerre di religione, a tutti i rifugiati, a tutti i rinnegati. Trovare una casa a quelli che stanno scappando e che non hanno più un posto dove stare. Ecco, io ho visto molto Altai come la testimonianza, l'esigenza di raccontare questo sogno e la spinta verso questo sogno. Volevo chiudere solo su una cosa. A un certo punto si dice bisogna, un giorno in cui avremo questa casa, dovremmo difenderla. Come la difendiamo? La risposta è fuoco ai cannoni. Ecco, diciamo che noi come progetto Bartleby ringraziamo. Bartleby è per definizione la persona senza casa, in questo senso ringraziamo i Wuming di essere il nostro fuoco e i nostri cannoni anche perché ci permettete non di cacciare qualcuno ma di invitare così tanta gente. E qui io chiudo. Vorrei ricollegarmi proprio a quest'ultimo discorso, questa cosa dei cannoni perché in effetti è una riflessione che portiamo avanti da tempo e che attraversa spesso i nostri romanzi. L'idea appunto di come difendere l'utopia una volta che si è riusciti a trovarle una casa e se ci siano luoghi che valgono davvero un assedio, se valga la pena farsi assediare, oppure no, oppure se valga la pena contrapporre una logica più nomade alla logica dell'assedio, del trincerarsi sempre e comunque. E se la logica più nomade però poi non rischi di non mettere mai radici, di non dare mai continuità, di non assumersi mai le responsabilità di una comunità. Ed è un po' anche la riflessione che avevamo iniziato con Q e rispetto alla quale abbiamo sentito l'esigenza di scrivere questo romanzo perché il protagonista di Q in qualche modo incarna una possibile risposta a questo quesito. Lui è un rivoluzionario di professione, se vogliamo chiamarlo così con un termine un po' molto anacronistico, si sposta da un luogo all'altro, da una situazione all'altra, riesce sempre a salvarsi più o meno per il rotto della cuffia, più o meno in zona Cesarini, negli ultimi dieci giorni utili, riesce sempre più o meno, pur conferite, pur con ammaccature, a cascare in piedi, riesce sempre a rischierarsi, sebbene con giri, sebbene con deviazioni, però dalla parte giusta, cosa che, rileggendo il romanzo, ci è sembrata molto consolatoria, tutto sommato, no? Ed era proprio uno degli elementi che volevamo evitare, cioè volevamo cercare di trovare un modo per indicare percorsi di speranza, che però non fossero percorsi consolatori, no? E cosa che invece, secondo me, in Q avviene, identificandosi nella figura del protagonista, tutto sommato si viene un po' consolati delle sue molte sconfitte, per il fatto che, appunto, lui, tutto sommato, è sempre dalla parte giusta. Questo però lo porta anche a non essere mai là dove ci si deve prendere la responsabilità di una sconfitta, o di una comunità sconfitta. Non è mai alla guida di un gruppo, è quasi sempre uno che si salva il culo individualmente, individualmente, mantiene delle relazioni, mantiene delle amicizie, ma la fessura attraverso cui lui riesce a passare per portare la fiamma della rivolta da qualche altra parte è una fessura che quasi lascia passare soltanto lui e pochi altri, e non è certo lui che si dà da fare per allargarla, per cercare di far passare altri. Ha l'idea che, in fondo, la cosa più importante sia incendiare un'altra prateria, sia mantenere acceso quel fuoco e consegnarlo a qualcun altro. Quindi, questo era una, diciamo, delle suggestioni da cui siamo partiti. Ed è per questo che sicuramente l'idea di difendere la nuova casa, il regno di Cipro, con i cannoni è proprio uno degli errori che commette Giuseppe Nasi, il personaggio che c'era anche in cuo, e che qui, appunto, concepisce questa idea di finanziare l'attacco ottomano contro Cipro ottenendo in cambio la corona dell'isola, quindi che il sultano gli conceda di diventare re di Cipro. La storia, diciamo, quella degli archivi si ferma qui. Noi non sappiamo, in realtà, storicamente, che cosa davvero Giuseppe Nasi volesse combinare a Cipro. Sappiamo che aveva fatto un esperimento di colonizzazione in Palestina, aveva, cioè, comprato dal sultano delle terre intorno al lago di Tiberiade, in particolare la città di Tiberiade, e le aveva donate a una serie di fuggiaschi ebrei che aveva salvato, che erano scappati dall'Europa cristiana, ai quali diede queste terre, portarono delle pecore, portarono i bacchi da seta, cercarono, in qualche modo, di impiantare una colonia. Quindi, diciamo che un progetto sionista antelitteram, Giuseppe Nasi aveva già tentato di farlo, e qui noi lo abbiamo fatto pensare più in grande, cioè, appunto, un regno dove gli ebrei non siano i soli, ma siano in qualche modo il popolo che meglio di chiunque altro può insegnare al mondo la tolleranza. Quindi c'è un trovare, diciamo, il nucleo dell'identità ebraica nella diaspora. Noi siamo quelli che sono stati dispersi, noi siamo quelli che sono stati perseguitati, chi meglio di noi potrà accogliere i perseguitati, no? Questo è il sogno di Giuseppe Nasi. È un sogno tutto calato dall'alto, questo è uno dei primi, insomma, il primo e più grosso errore, nel senso che non si domanda se gli altri ebrei la pensino come lui, si fa il suo viaggio, diremmo, no? E dall'altra parte l'altro errore, appunto, è quello di confidare nei cannoni, no? E di credere che una volta che parlano i cannoni nient'altro debba parlare. In questo modo Giuseppe Nasi finisce per non ascoltare l'elemento che più lo mette in crisi, che più lo interroga, che costantemente lo incalza e gli farebbe capire probabilmente anche l'altro errore, quello del calare dall'alto un progetto utopico e che è l'elemento femminile, sono le donne del romanzo, che hanno sicuramente, diciamo, se andiamo a contare le pagine, uno spazio minore rispetto ai protagonisti maschili, ma hanno sempre una serie di battute di dialogo molto incisive che costantemente mettono in difficoltà, mettono in crisi le figure maschili e alla fine il problema proprio, diciamo, l'inciampo di queste figure maschili è non riuscire a tener conto dell'altra metà del cielo, che poi è pure più della metà, no? Quindi, diciamo, l'inciampo è non capire che ci vuole tutta l'intelligenza collettiva disponibile per portare avanti un progetto utopico, no? E che se uno ne taglia più della metà è destinato per forza a fallire. Noi, diciamo, questo è un po' la spinta iniziale, no? Che ci ha portato da Q verso Altai. Devo dire che già quando avevamo finito di scrivere il nostro primo romanzo, concludendolo appunto fuori dall'Europa nel 1555, avevamo cominciato a vagheggiare, no? Dicendo, beh, non lo vogliamo scrivere il seguito di Q, però che cosa farebbe Ismail nell'impero ottomano? Beh, di lì a poco c'è la battaglia di Lepanto. Ce l'avamo lasciati già, no? Con questa con questa suggestione, anche se appunto ci eravamo detti che non avremmo proseguito quella storia. In effetti con Altai la promessa l'abbiamo mantenuta, non solo perché è un romanzo che abbiamo cercato di scrivere in maniera che si possa leggere autonomamente, non c'è bisogno di andare a ripassare Q, non c'è bisogno di rileggerselo, teoricamente non c'è bisogno nemmeno di averlo mai letto. È ovvio che quando a un certo punto compaiono i personaggi di Q all'interno di Altai uno che ha già letto Q ha delle sensazioni differenti rispetto a chi non l'ha letto e questo è chiaro. Però abbiamo cercato di costruire un romanzo che abbia un protagonista completamente autonomo che in Q non compare è lui l'io narrante è lui la telecamera principale anche qui abbiamo fatto una scelta un po' diversa rispetto ai nostri ultimi romanzi nel senso che abbiamo proprio scelto di utilizzare l'io narrante e di utilizzare un vettore un unico vettore che pure in questa molteplicità di voci di lingue di culture un unico vettore che prende per mano il lettore e lo porta costantemente attraverso la storia ed è sempre lui cosa che in parte accadeva anche in Q ma diciamo l'io narrante è un altro in questo caso saltando di palo in frasca l'altra cosa che mi ha colpito diciamo dell'introduzione che hai fatto è questo riferimento a Moby Dick effettivamente il romanzo non è solo diciamo un sequel di Q a 15 anni di distanza 14 anni di distanza in qualche modo è anche un sequel di Moby Dick nel senso che il romanzo si apre già nei primissimi capitoli nel secondo capitolo con un'immagine che è una citazione di Moby Dick usa proprio le stesse parole Emanuele De Zante per descrivere la sua barca che galleggia sulle acque dell'arsenale che è appena stato attaccato usa le stesse parole che usa il narratore di Moby Dick per descrivere il navigare dei relitti della nave nell'ultima scena del romanzo e oltretutto trova sul pelo dell'acqua Emanuele De Zante il protagonista di Altai un un lacerto di Bibbia una pagina della Bibbia tutta smangiucchiata dall'acqua con l'inchiostro mezzo sciolto dove l'unica frase distinguibile è una frase dal libro di Giona in cui dice che appunto i marinai buttarono Giona in acqua e il mare si placò e da lì poi Giona incontra la balena o comunque il leviatano il mostro marino che lo inghiotte e è anche il momento in cui comincia la vicenda che porterà Emanuele De Zante dentro al ventre della balena cioè nella pancia del nemico verso l'impero verso l'impero ottomano quindi diciamo questa è della tua introduzione l'altra cosa che mi ha colpito concludo dicendo che la scelta del del periodo cioè appunto raccontare i prodromi della battaglia di Lepanto non è ovviamente stata casuale ci interessava prendere la madre di tutti gli scontri di civiltà Lepanto è quasi un sinonimo dello scontro tra occidente e oriente tra islam e cristianità nella vulgata raccontato sempre dal punto di vista cristiano qui non mi interessa il fatto che ovviamente gli storici hanno indagato anche l'altro punto di vista anche perché se no noi Altai non l'avremmo potuto scrivere perché non siamo storici di professione e usiamo sempre il lavoro degli storici in fase di documentazione quindi ovviamente abbiamo trovato analisi dei preparativi che hanno portato alla battaglia di Lepanto fatti da storici turchi fatti da storici europei ma su fonti turche eccetera eccetera quindi volevamo raccontare ancora una volta diciamo la storia dalla parte sbagliata anche se in questo caso la parte sbagliata non è esattamente la parte dei vinti perché è vero che l'impero ottomano venne sconfitto a Lepanto ma è anche vero che di fatto quella guerra l'impero ottomano la vinse quella era la guerra per Cipro e Cipro gli ottomani la conquistarono presero diciamo una grande batosta a Lepanto persero gran parte della flotta due anni dopo l'avevano rimessa rimessa in piedi ma quello che ci interessava era indagare appunto questo mito dello scontro di civiltà questo punto d'origine leggendario e nel farlo ci siamo trovati di fronte a personaggi che mettevano in crisi ovviamente la retorica dello scontro di civiltà per esempio il gran vizir dell'impero ottomano Sokollo Mehmet Pasha era stato preso da bambino in Bosnia al confine tra la Bosnia e la Serbia veniva da una famiglia di cristiani ortodossi era la pratica cosiddetta della tassa del sangue del def shirme in cui appunto i turchi ottomani andavano a prendere bambini cristiani per poi allevarli da musulmani farli convertire cambiargli nome allevarli nel corpo dei giannizzeri e da lì potevano avevano un cursus honorum spianato che poteva arrivare anche a diventare la seconda carica dello Stato seconda carica dello Stato che intratteneva però costanti rapporti con il fratello che era una delle figure di spicco della chiesa ortodossa serba quindi comunque un musulmano già per questo particolare il segretario di Sokollo Mehmet Pasha era un medico ebreo Solomon Ashkenazi nato a Udine cacciato dalla Repubblica di Venezia in una delle periodiche cacciate degli ebrei che i veneziani facevano per impadronirsi dei loro beni ma che giunto a Costantinopoli continua a definirsi suddito della Serenissima dice io sono un suddito della Serenissima tant'è vero che faceva da medico alla comunità veneziana comunità veneziana che viveva a Galata una delle tre città nella città che ci sono a Istanbul ma città tutta occidentale dove vivevano veneziani genovesi francesi era la città dei franchi ma dentro a Costantinopoli e Solomon Ashkenazi era pure il medico del bailo veneziano cioè dell'ambasciatore di Venezia a Costantinopoli questo la figura numero due diciamo la carica numero due dello Stato se passiamo alla carica numero uno Selim II detto l'ubriacone per il suo amore per il vino di nasso che gli forniva proprio Nasi avendo capito che comunque negli aspetti materiali il potere diciamo ha una sua rilevanza ha un suo collegamento importante Selim II aveva come favorita una donna chiamata Nurbanu nell'impero ottomano ma che era stata catturata dai corsari ottomani su un'isola nei pressi di Corfu e che veniva da una famiglia greco-veneziana che manteneva dei contatti con la comunità veneziana e che era assolutamente contraria alla guerra contro Venezia così come era contrario alla guerra contro Venezia e lo stesso Socollo Mehmet Pascià quindi c'erano tanto a Venezia che a Costantinopoli partiti che volevano risolvere la questione con la questione insomma non con la guerra ma con dei trattati per continuare il più possibile il commercio in particolare Socollo che potrebbe sembrare a prima vista un personaggio mefistofelico negativo all'interno di Altai invece aveva una capacità di visione incredibile proprio l'uomo che si sottrae alla logica dello scontro di civiltà diceva a me non interessa fare la guerra con Venezia ma per un motivo fondamentale che il Mediterraneo non è il futuro dell'impero ottomano il futuro dell'impero ottomano quello a cui dobbiamo guardare è l'Oriente ancora più a est ancora più fuori dall'Europa guardiamo all'India mandava messaggeri ad Acce sull'isola di Sumatra dal sultano di Acce aveva contatti con isole lontanissime voleva fare il canale di Suez lui voleva tagliare l'ismo di Suez per arrivare in India senza dovere circunnavigare l'Africa e senza scontrarsi con i portoghesi quindi ecco questo è il contesto culturale politico etnico e religioso sul quale viene costruita la retorica dello scontro di civiltà e se la retorica della madre di tutti gli scontri di civiltà si basa diciamo a delle fondamenta così così deboli così friabili beh figuriamoci gli scontri di civiltà di cui parliamo oggi si sente un certo effetto Larsen il compagno Larsen che è sempre in tutte le assemblee tutti è un presenzialismo eh no è però è abbastanza fastidio comunque eh no io sarò breve perché poi ci interessa poi discutere chiacchierare rispondere a domande critiche contumelie imbettive qualunque cosa eh no io non più che del libro parlo di quello che c'è intorno al libro cioè che cosa rappresenta il TAI all'interno del del percorso del nostro collettivo a parte oggi ho saputo da uno dei dirigenti dell'Einaudi che qualche giorno fa il caporedattore della cultura di Repubblica Antonio Gnoli è stato sentito dire questi qui sono una rock band di quelle longeve sono tipo i Rolling Stones che speriamo a 60 anni di non essere patetici come loro però insomma però è insomma no per dire che insomma ci si comincia a accorgere che il nostro percorso il nostro tragitto dura da un po' ecco questo è interessante appena pochi mesi fa qualcuno mi ha detto Duraming Duraming esatto esatto sì sì l'aveva detto vai facciamo i nomi il direttore del domenicale del Sole 24 Ore in realtà sì abbiamo avuto un momento difficile nel senso che un anno e mezzo fa abbiamo perso un membro cioè non che ci hanno amputato un braccio o una gamba ma che uno di noi ha lasciato la band uno di noi ha lasciato la band per insomma motivazioni che non è questa la sede insomma non andremo qui a spiegare approfondire eccetera però abbiamo avuto un momento chiaramente difficile perché dopo tanti anni di lavoro comune dopo aver scritto l'ibri insieme aver condiviso moltissimo ci siamo ritrovati che non eravamo più in quintetto ma eravamo un quartetto come il John Coltrane quartet come i Beatles insomma alla fine in realtà i quartetti cioè non sono poi male però i quattro moschettieri il quartetto Cetra il quartetto Cetra no abbiamo avuto cioè abbiamo pensato qui dobbiamo avviare un percorso di elaborazione di questo lutto avevamo già in mente di scrivere una cosa che si collegasse al decennale di Q però non era ancora Altai cioè Altai è cresciuto dopo all'inizio volevamo scrivere un racconto cioè poi pian piano ho cominciato a lievitare 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 è diventato una novella poi alla fine un romanzo di 400 pagine però eravamo ancora proprio agli albori di questa riflessione quando è successo il patatrack è successo il patatrack e abbiamo deciso di tornare cioè per affrontare questa cosa per elaborare questo lutto di tornare all'inizio a noi l'abbiamo chiamato tornare al luogo del delitto perché per alcuni alcuni a cui stiamo abbastanza sulle balle è stato un delitto il fatto che non abbiamo iniziato e poi siamo andati avanti e abbiamo pensato appunto di ampliare quella cosa che volevamo fare per il decennale di Q e proprio cioè esplorare di nuovo palmo a palmo il terreno sul luogo del delitto leggevo l'altro giorno uno scrittore Kenyotan Guji Wationgo che lui diceva remember ricordare è il contrario di dismember remember vuol dire riattaccare le membra lui faceva un riferimento riguardo alla cultura africana distrutta sradicata dal colonialismo lui diceva ri trattino membering africa noi abbiamo perso un membro e con il remember cioè con il ritorno a Q in qualche modo abbiamo suturato la ferita quindi Altai è stata la nostra terapia di gruppo di fatto è stata la nostra terapia di gruppo è stato un anno e mezzo non ci sono dentro i cazzi nostri se no se non in forma proprio iper allegor c'è che può capire proprio solo uno che ci conosce benissimo e poi forse neanche quindi sì non è nessuno dopo ci parlerai dei tuoi problemi ma adesso adesso sì è stato un anno e mezzo difficile in realtà noi per scrivere Altai ci siamo fatti un culo quadro è stato faticosissimo noi di solito ci mettiamo tre anni a scrivere un libro a scrivere un romanzo di quelli grossi di quelli collettivi e stavolta ci abbiamo messo un anno e mezzo quindi abbiamo contratto i tempi e intensificato l'impegno abbiamo cominciato a mandare molto raramente la nostra newsletter abbiamo fatto meno apparizioni pubbliche ci siamo concentrati abbiamo tenuto il focus sul lavoro per Altai e ne siamo usciti sfiancati esausti uno tra un po' gli mettono l'occhio di vetro nel senso che ne siamo usciti con le difese immunitarie abbassate però avevamo delle buone vibrazioni ci abbiamo creduto fino in fondo l'abbiamo scritto in marcia forzata noi abbiamo tutti i nostri slogan interni abbiamo tutto un linguaggio un gergo tutto nostro uno dei nostri slogan interni mi è venuto in mente prima quando si parlava della fessura per cui passava sempre e solo passava sempre e solo il protagonista di cui magari pochissimi altri e non l'allargava mai noi negli anni abbiamo inventato uno slogan che usiamo tra di noi e che crediamo però valga per tutti che è salvarsi il culo il più collettivamente possibile grazie se avete domande interventi questioni insulti se la fai o allora qua si rischia l'embolo la sindrome di economy ogni tanto ogni tanto dovete stirare le gambe alzarvi i piedi di fare un po' così perché se no vi viene un embolo martiri della letteratura è stato già accennato il legame con Carlotto quindi con Cristiani di Allah mi sembra poi la quindi noi non siamo qui a discutere no la mia domanda era qual era il grado qual era il livello di dialogo tra Carlotto tra Cristiani di Allah e Altai cioè non so ci sono molti punti in comune poi poi ho una domanda sul diciamo su Altai che il quindi volevo chiedere se è giusto poter dire che il rapporto tra la segugio la metamorfosi segugio falco che Manuel subisce cioè dall'essere il segugio di Nordio ristretto nella città di Venezia e puoi diventare il falco invece di nasi rappresenti l'ampliamento del punto di vista perché da segugio lui ha lo sguardo rivolto allo sguardo verso il basso e da falco invece riesce a dominare il Mediterraneo tant'è che riesce ad andare da Cipro a Saronico Istanbul Lepanto eccetera eccetera e poi vi volevo ringraziare tantissimo per la figura di Mimi Reis perché è un gran simpaticone poi io sono barese quindi sì no è dove non associavo vabbè ok e niente quindi questo in sostanza in che cosa Altai dialoga con Cristiani di Allah innanzitutto il contesto che è il Mediterraneo no quello stesso Mediterraneo che il suo collo inizia a vedere più o meno come il passato e che però all'epoca e che però all'epoca più che un luogo appunto di confronto o di scontro è un luogo è di per se stesso una comunità questo è indicato innanzitutto da 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 di babbile linguistica che attraversa il romanzo ci sono dialoghi non solo in veneziano o in italiano che rendono i dialoghi anche in altri ma ci sono anche dialoghi appunto nelle lingue che erano parte davvero nel bacione del Mediterraneo all'epoca erano lingue franche la lingua franca del Mediterraneo orientale che era per la maggior parte su base su base italiana e catalana ma con molti con molte parole arabe ebraiche turchi greche albanesi serbe eccetera eccetera questo secondo me è il punto diciamo di vicinanza più profondo cioè quello di vedere il Mediterraneo come un'occasione e non come come un lago che divide dei piccoli paesi ma come appunto come 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 un paradossale focolare attorno al quale più di una civiltà storicamente si affaccia e ha interagito con le altre nel corso dei secoli voglio dire il fatto che la storia sia un susseguirsi di scontri e di battaglia è una cosa che si legge sui manuali in realtà i momenti poi di scontro aperto sono relativamente pochi non è pensabile una civiltà occidentale europea senza la civiltà araba precedente non è pensabile la civiltà araba senza quella greca precedente eccetera eccetera quindi questo è uno dei motivi in più che ci portano a pensare proprio alla retorica dello scontro di civiltà come come a un mito a una rinnessione della tradizione è qualcosa di profondamente nefasto in questo momento storico l'altra domanda era ah sì evidentemente sì il passaggio da Segugia a Falco sono cose che capitano quando c'è un'alchimia forte tra le persone che scrivono nel senso che non c'era è talmente ben strutturato questo decorso del personaggio nell'arco nell'arco narrativo che sembra una cosa che non abbiamo pensato sin dall'inizio invece questa metafora del Falco è venuta fuori in qualche modo all'improvviso proprio nel momento in cui ci serviva come dire un'immagine pregnante per rendere significativo in poche battute proprio il percorso che aveva portato il nostro protagonista fino a quel punto lì che era praticamente fino cioè quello che in altri temi si potrebbe definire un salto della quaglia cioè ha cambiato spondo completamente cambiato padrone anche da un certo punto di vista il Falco si libra in alto però torna sempre sull'avambraccio di chi lo manda a cacciare quindi sì è un allargamento di prospettive ma non è l'allargamento di prospettive che avrebbe sottratto il protagonista poi e la sua sorte personale cioè è un passaggio è sicuramente qualcosa che contiene in sé l'embrone di una non sconfitta ma non è di per sé una vittoria e poi di fatto il passaggio che non ha fatto Q è rimasto un segugio più o meno fino all'ultimo miglio ha tentato sì ha tentato uno scarto sull'ultimo miglio mentre mentre Dezzante Cardoso si trasforma appunto in Falco che è anche un animale diciamo che vive molto più in collaborazione con il cacciatore è molto meno sottomesso si sente un casino qua dietro non so se lo sentite anche voi ma qua c'è ah di andare a memoria però anche l'altro però proprio quello lì magari sono questi ah ah no questo non fa l'azzo ok vai vai forza andiamo perché qua siamo qua per rispondere a voi sì io volevo sapere i miei anni sono passati da qui nella letteratura volevo sapere invece che molte cose sono cambiate invece che cosa è cambiato a Bologna questa è per la città la domanda è che cosa è cambiato a Bologna negli ultimi 15 anni sì le cose sono cambiate rispetto a tu e 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 tu dunque in realtà abbiamo elaborato nel corso degli anni una convinzione che abbiamo un rapporto un po' contraddittorio per non dire forse addirittura un po' perverso con questa città soprattutto negli ultimi durante gli anni dell'amministrazione cofferati abbiamo ragionato su questa faccenda cioè il nostro stare a Bologna che per molto tempo ha corrisposto a un viverci nel senso di abitarci avere qui la casa e magari la famiglia eccetera ma in realtà la nostra attività è sempre stata proiettata verso l'esterno ovviamente questa è una fortuna per qualunque per qualunque scrittore però è anche vero che appunto per quanto ci riguarda noi da un certo punto in poi abbiamo davvero smesso di calcare le scene di questa città peraltro corrisposti ecco nel senso che non è che eravamo chiamati a gran voce anzi quindi è stato come dire un divorzio consensuale e anche abbastanza indolore tutto sommato nel senso che si è prodotto nel corso nel corso del tempo detto questo è evidente che il discorso non è chiuso non può esserlo perché comunque qui siamo rimasti cioè non abbiamo fatto la scelta di molti amici e non insomma i cosiddetti cervelli in fuga che se ne sono andati a cercare fortuna all'estero altrove è buon per loro ci mancherebbe altro è una scelta anche apprezzabilissima noi effettivamente non l'abbiamo fatta per una serie di motivi personali professionali eccetera eccetera siamo rimasti qui quindi con questa cosa dobbiamo dobbiamo farci i conti quindi ti posso dire ti posso soltanto dare una risposta come dire problematica ecco non posso darti una risposta netta il fatto che da quando è emersa si è alzata l'onda all'università abbiamo deciso tra l'altro con contemporanea Cofferati aveva annunciato che non si ricandidava abbiamo colto l'occasione per mettere fine allo sciopero degli eventi che durava per noi da 4 anni ma anche per la città mi sembrava che durava da 4 anni l'onda si è alzata e abbiamo deciso di metterci di metterci sul surf adesso per usare un'immagine un po' così alla Beach Boys continuiamo a citare gruppi musicali e quindi questo significa qualcosa che abbiamo cominciato a a venire qui insomma a stiparci qui dentro invece che stare comodamente in aula 3 detto questo io stasera ho più un look da solista alla Stevie Wonder possono fare le domande anche da sotto se c'è qualcuno da sotto che vuole fare una domanda se no intanto raccogliamole da qui pronto dall'oltretomba mi sentite? si ci sentiamo ciao e niente io avrei una richiesta vi va di leggerci qualcosa? così subito magari alla fine ma non siamo già alla fine? no magari voi lì sotto stipati non ne potete più ma qua non siamo neanche alla fine del prologo allora aspetteremo però volentieri volentieri ma dopo è bello che parlare con un altoparlante uno si gira è l'animismo della tecnica proprio come il televisore di 54 poi come il computer star trek a voce femminile io ero venuta l'anno scorso in aula 3 all'essere che aveva raccontato una storia molto bella che ha aiutato molto a leggere e a visitare il momento avete una storia per questa gente? sono belle domande Altai è la storia per questo autunno ecco dopo il mazzo che ci siamo fatti per scrivere questo intanto occupiamoci di questa qui poi tanto ne creeremo anche tante altre insomma per riagganciarci diciamo a quello che che eravamo venuti a raccontare in aula 3 allora si parlava di New Italian Epic e magari diciamo può essere può essere interessante una un paio di notazioni insomma rispetto ad Altai ulteriori un paio di di suggestioni una delle diciamo dei temi sommersi di tutte le opere che abbiamo inserito all'interno della galassia del New Italian Epic è questo tema della morte del vecchio cioè quasi sempre questi romanzi si confrontano con un'assenza di qualcuno che era era il boss della comunità era una figura di riferimento importante per tutti era un padre era appunto il classico vecchio che è morto che non c'è più che non è più in grado di svolgere il suo ruolo e quindi c'è qualcun altro che deve rimboccarsi le maniche e non tanto chiaramente sostituirlo perché probabilmente è impossibile ma cercare di colmare il vuoto e in qualche modo si parte spesso dalla descrizione di una comunità dove chi fino a quel momento è stato figlio deve cominciare a essere anche padre a essere genitore a prendersi delle responsabilità e Altai si apre proprio il prologo con un evento del genere è significativo credo che forse per per la prima volta nelle tra le varie opere del New Italian Epic la morte è la morte di una vecchia nel senso che non svelo niente insomma non è uno spoiler grosso è veramente il prologo nelle prime cinque pagine lo si impara muore Beatriz De Luna Michez ma tanto è l'inizio quindi quindi non ti preoccupare no no è proprio l'inizio sì era già piuttosto vecchia Beatriz De Luna Michez che era in qualche modo l'unica intanto appunto l'unica donna alla quale Giuseppe Nasi fosse capace di dare ascolto l'unica donna veramente importante nella sua vita e quindi la la sua mancanza lo porterà a fare gli errori di cui si parlava prima ed era anche la donna con cui Ludovico Gerdalpozzo l'eroe senza nome con tutti i nomi di Q aveva sperato di poter condividere gli ultimi anni della vita e invece così non è e così non è già nel senso che già insomma si è verificata una rottura ed è quello l'evento che un po' smuove tutto quindi questo diciamo penso possa essere un un ulteriore un ulteriore elemento di di riflessione l'altro elemento che con cui mi collego sempre ai discorsi dell'aula 3 era novembre non mi ricordo più comunque insomma dell'anno scorso è il ragionamento sulla sconfitta anche allora c'era stata fatta una domanda sul fatto che i nostri i nostri romanzi hanno sempre a che fare con delle sconfitte progetti utopici che per un motivo o per l'altro non si riescono a realizzare e ci era stato chiesto se questo non volesse dire che in fondo la nostra visione della storia il tipo di messaggio che volevamo dare era un un messaggio sconfittista no? cioè di qualcuno a cui piace tutto sommato la sconfitta no? ne abbiamo degli esempi a voglia in Italia e in particolare diciamo nella sinistra in particolare la sinistra che sarebbe no? potrebbe darsi insomma no? quindi che che degli autori come noi abbiano un punto di vista del genere ecco credo che Altai ribadisca e forse rafforzi ancora di più l'idea che appunto si può raccontare una sconfitta ma che raccontandola si possono cercare di intanto trasmettere idee per evitarla nel senso che nel mostrare come una sconfitta si è data si mostra anche strategie potenzialità per aggirarla e dall'altra parte credo che in Altai sia il romanzo in cui ci sono più elementi che riescono appunto ad andare oltre la sconfitta perché in realtà tutti i nostri romanzi sono racconti di come qualcosa riesce a sopravvivere alla sconfitta quel qualcosa tutto sommato in cui lo dicevo all'inizio è una persona o comunque un piccolissimo gruppo di amici di persone tenute insieme da legami d'affetto in Altai c'è qualcosa di più vasto e ci sono più elementi quindi ecco per chi si appresta a leggerlo direi di stare di prestare particolare attenzione a quali sono le cose che come nella scena finale di Moby Dick riescono a galleggiare sulle acque del disastro sulle acque del naufragio e quindi in qualche modo a salvarsi dal naufragio perché sta lì poi il nostro tentativo maggiore insomma quello di indicare che cosa può andare oltre la sconfitta proprio per non essere sconfittisti ma nemmeno illusi nemmeno irrealisti per non dare delle speranze che siano appunto consolatorie che siano semplici alternative alla paura perché la speranza quando è alternativa alla paura è una passione triste tanto quanto la paura fermo restando che il libro non l'ho finito mi mancano ancora le ultime 30 pagine quindi potrei anche sbagliarmi però il modo di cioè sono proprio sensazioni di lettore cioè mentre in cui l'empatia proprio con Nasi è immediata invece con il Nasi di Altai è differente la sensazione che ho provato insomma nel senso che lui è molto diverso rispetto a cui è adesso ricco potente e quindi ci sono certi momenti in cui non ho questa empatia totale rispetto a questo personaggio soprattutto nel momento in cui interviene l'aspetto religioso non riesco a capire fino a che punto c'è una spiritualità veramente sentita oppure c'è un uso strumentale della religione per cui abbiamo di fronte a noi proprio il politico per eccellenza quindi se ci sono delle sfumature in realtà negative di questo personaggio insomma sì il nasi che mettiamo in scena in Altai è in pieno delirio politicista sicuramente molto difficile avere empati però è anche sarebbe anche sbagliato in qualche modo è esatto sarebbe sbagliato classificarlo Tukur come personaggio tra virgolette negativo perché in realtà in realtà è animato da una grande visione è un personaggio che è disposto a scrificare tutto più o meno per questa grande visione noi ex post con l'analisi di chi ha scritto il romanzo diciamo che c'erano degli errori a monte nella sua visione appunto il fatto che l'utopia è cadata dall'alto che la libertà conquista se ti viene riportata da un cane da caccia è una libertà da cani però sì questo in fondo risponde all'esigenza fondamentale che abbiamo provato nello scrivere Altaic era quella di mettere in scena dei personaggi realistici realistici l'empatia con Cardoso con De Zante accade naturalmente ma anche lui non è un personaggio intimamente e del tutto positivo tra virgolette non è un vero eroe non ci sono eroi o antieroi che giocano la parte dell'eroe e cattivi in questo romanzo ma non c'è neanche la versione cinica che dice nel mio romanzo ci sono cattivi e più cattivi no sono personaggi attraversati attraversati da pulsioni contraddittorie e noi abbiamo cercato in questo senso di fare un passo avanti rispetto ai limiti sì la direzione è quella così come in Manituan gli eroi hanno miserie però sono ancora molto solenni i Manituan le miserie di tessere c'è un eroe in alcuni aspetti della sua personalità può anche essere un laido in Altai c'è lo stesso Manuel ha delle cose di laidume tra l'altro io credo sia piuttosto appropriato che tu non abbia provato empatia umana per Nasi perché in effetti a lui non frega niente di affascinare le donne cioè è un personaggio che esclude le donne cioè in tutti gli aspetti questo esce anche dalla pagina molto probabilmente lui il suo business anche business politico è affascinare gli uomini e questo è la grandezza è il limite del suo progetto è tutta costruita su questo in realtà è un personaggio affascinante questo non vuol dire che ci debba essere empatia umana ma è un una fascinazione intellettuale la stessa che prova Manuel per lui una fascinazione filosofica infatti lui esordisce immediatamente filosofeggiando a parlare del tamul della 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 tolleranza a dare un'interpretazione dell'episodio dell'attore di Babele cioè lui inizia subito un esercizio di lungo corso di fascinazione intellettuale nei confronti di Manuel e lo vediamo comunque in tutto il romanzo lui cerca di affascinare dei maschi lui veramente delle donne non gliene frega niente è anche omosessuale oltre a tutte queste cose che non avevamo ancora detto di lui una cosa dei personaggi di Altai che noi abbiamo cercato di fare cioè questa cosa la faceva notare Riccardo in un'intervista è la prima volta che i personaggi dei nostri libri rimuginano così tanto sulla loro infanzia Dana Manuel rimuginano sulla loro infanzia ma anche Socollu non entriamo nella sua testa ma andiamo a vedere la sua infanzia è una cosa che mancava completamente in Q uno dei forti limiti secondo noi dell'io narrante di Q quello non pensa mai in 30 anni che lo abbiamo accompagnato 30 anni di decorso 30 anni di avventure di imprese di vicissitudini in cui siamo stati dentro la sua testa non c'è mai venuto in mente di fargli ricordare sua madre suo padre la sua infanzia che è assurdo nessuno di noi vive così senza mai pensare ai propri genitori a un episodio della propria infanzia nessuno ma infatti l'io narrante di Q non era un personaggio a tutto tondo era un vettore era un espediente narrativo antropomorfizzato che serviva a portare avanti l'azione era quello era un flusso non era un vero personaggio era la forza di quel libro questo ma a noi non ci stava più bene di costruirli in questo modo con 54 abbiamo iniziato un lavoro che era ancora molto acerbo da questo punto di vista con Manituana lo abbiamo proseguito in realtà è stata fondamentale asce di guerra perché l'io narrante vitaliano essendo l'io narrante di una persona reale che praticamente ci consegnava il suo memoriale ci è servito molto da questo punto di vista e con Altai invece abbiamo cercato di andare ancora più in profondità nei traumi dentro l'anima di ciascun personaggio abbiamo anche ripreso appunto il protagonista di Q però rendendo molto complessa questa fase della sua vita molto lacerata insomma ha una psicologia molto più complicata di quella che aveva anche nella terza parte di Q dove pure era cresciuto un po' rispetto alla prima e alla seconda è vero questa cosa che appunto in Manituana i personaggi erano ancora solenni cioè era proprio quella era proprio una narrazione epica classica proprio in cui noi li vedevamo quasi in un in un tableau vivant cioè dentro un diorama ma non ce ne avevamo immaginati con la regia di Q esatto esatto come quei campi lunghi di Barry Lyndon esatto quei campi lunghi di Barry Lyndon nel settecento un romanzo sul settecento qui invece è molto diverso non saprei trovare un riferimento cinematografico ma certo siamo andati molto più dentro i personaggi e il lavoro sulla lingua a cui accennavi tu nell'introduzione faceva parte di questo chiaramente questi dovevano parlare la lingua appropriata le parole dovevano riuscire a risuonare nella maniera in cui avevamo fatto un lavoro sulla lingua particolare si sono stati accusati di essere anacronistici perché c'erano le parolacce in realtà le parolacce si dicevano anche allora è come il secolo della retino della cazzaria di Vignali eccetera eccetera quindi c'è figurarsi erano scurrilissimi quindi chi dice e dico troppe parolacce non sa un cazzo di quello che succede nel sedicesimo secolo come è sempre successo nelle classi inferiori ma non è quello noi avevamo usato un linguaggio elroiano paratattico secco mitragliato che chiaramente non è quello che si parlava allora qui invece siamo stati molto più attenti a creare un effetto di plausibilità della lingua tanto che una delle robe più diciamo un po' più difficili è stato riuscire a usare dall'inizio alla fine soltanto parole che fossero già in uso nell'italiano del 1569 per ogni parola utilizzata siamo andati a controllare nel tesaurus e abbiamo scartato anche parole che suonavano meglio ma che non esistevano ancora le gondole nel cielo di Venezia avevano scritto avevano traiettorie incerte la parola traiettoria ancora non esisteva abbiamo fatto un lavoro così e anche nei dialoghi per cercare di trovare la lingua più adeguata a questo scavo all'interno della materia umana manituana era più sperimentale la lingua era più sperimentale lì abbiamo cercato veramente in manituana di creare degli spiazzamenti continui nell'uso della lingua quindi era più sì sono delle parti che sembrano tradotte dall'irochese che nessuno di noi peraltro parla e che non è anche una lingua è come dire parlare in africano o in europeo dimmi una frase in europeo capito la lingua francese è arrivata vabbè io mi sento un giorno non sarò breve vabbè provo più che a fare una domanda a dare degli spunti di riflessione anche cioè partendo dal fatto perché mi è piaciuto al taico mi è piaciuto perché come si interisce anche storicamente una tradizione letteraria però là non sento niente però dai provo no provo scusate più che una domanda magari saranno delle suggestioni e degli spunti di riflessione brevemente su in che contesto si inserisce anche la pubblicazione di Altai rispetto a cui è stato sottolineato come sono due libri completamente differenti ci sono dei legami fortissimi ci sono dei personaggi che ritornano c'è comunque la capacità di scrittura che riporta nello stesso mondo di Q non solo anche se in aree geografiche diverse però la cosa interessante è di come si colloca questo libro oggi in che termini provare a parlare di Altai come nuovo ciclo di Q in che termini provare a parlare delle mobilitazioni anche dell'onda e quindi dei suoi sviluppi come l'occupazione di questo spazio come parallelo storico e produttivo cioè quando usciva Q era l'epoca dell'affermarsi delle dute bianche di una pratica l'epoca delle io torno sempre sulle dute bianche se si non anche però non mi fermo perché è una ricerca veramente interessante perché cioè grazie a voi parto da Minister magari non dalle dute bianche però immaginare quella volontà di determinazione di autodeterminazione dei popoli assolutamente sì assolutamente sì non ci piove su questo e quindi provare a immaginare Altai come una produzione che si inserisce in un nuovo ciclo in una fase in cui chi c'era a Genova non c'è oggi cioè aveva dieci anni magari penso alle nuove generazioni che hanno attraversato l'onda e in questo mi piace riprendere un passaggio del libro molto bello dal mio punto di vista nella differenza che viene sottolineata fra Ismail e Beatriz quando viene descritta questa differenza in cui esistono due tipologie di intervento di costruzione di sogno e di utopia una prima quella che appartiene magari a Donna Gracia appunto è che essere questo fiume che tenta di squarciare il deserto di attraversarlo e da lì costruire qualcosa nella speranza c'è un gioco che si può dire definire banalmente o tutto o niente cioè è squarciare e provare in quel contesto l'altro percorso è quello di Smile che è un fiume che se non sbaglio come una cascata cade evapora e ritorna un'altra volta come pioggia in questo Altai lascia un'eternità di questo personaggio che sembra lì lì per cedere però riprende e magari continuerà in un altro romanzo ebbene oggi viviamo una nuova fase una nuova fase che magari tra un po' di tempo ci porterà a Copenhagen fra dieci giorni in cui l'intervento dei popoli rivolta se vogliamo definirli così cambia radicalmente il terreno di intervento entra in un mondo nuovo in cui la globalizzazione è fermata in cui c'è un discorso climatico forte e prepotente e niente semplicemente a me l'ho letto con questo spunto dell'inizio di un nuovo ciclo anche di spunti di rivolta di popoli e dell'autodeterminazione delle rivolte cosa devo dire dunque per carità una riflessione assolutamente legittima ci mancrebbe altro che non ho molto da aggiungere a una lettura di questo tipo uno scrive romanzi è anche bello sentire come la gente li legge posso dire quindi soggettività per soggettività insomma forse con quale spirito lo abbiamo scritto noi che magari abbiamo qualche anno in più e abbiamo vissuto delle esperienze un po' diverse diciamo che sicuramente se devo ragionare su due fasi storiche due fasi politiche Q e Altai senz'altro Q è un romanzo che fotografa un momento una visione eroica prometeica molto giovanile molto novecentesca anche anzi se vogliamo era proprio un modo di fare i conti con tutta l'esperienza del novecento la rivoluzione le rivolte eccetera eccetera così è stato letto da molti perlomeno ovviamente Altai lo scriviamo quando abbiamo qualche anno in più e hanno qualche anno in più anche i personaggi e fotografa una fase diversa ha una prima lettura infatti può sembrare un romanzo più pessimista appunto sconfittista no nel senso che non lo è né più né meno di quanto non lo fosse Q però magari più pessimista credo che in realtà se uno si sofferma un attimo a guardarlo non lo sia a leggere tra le righe non lo sia affatto Riccardo rispondeva a una domanda appunto su questo su sconfitta pessimismo eccetera rispetto al finale di Altai e contestava una lettura tipo pessimista dicendo guardate un vero pessimismo sarebbe se noi scrivessimo una storia in cui la morale è che siccome può andare male non vale la pena sbattersi può sempre andare male quindi tanto vale stare un po' così sul chi vive e non e non spendersi invece credo che in Altai si dica qualcosa di molto diverso lì si dice che sì può sempre andare male e proprio per questo vale la pena sempre spendersi c'è un paradosso nella speranza cioè il concetto di speranza è paradossale credo in quanto tale e probabilmente in Altai c'è una riflessione proprio su questo per chi lo ha letto chi lo deve ancora leggere insomma consiglio di soffermarsi soprattutto sulle ultime pagine quelle che lei non ha ancora letto insomma le ultime 30 pagine ma forse anche le ultime 10 o 15 sono le pagine in cui si compie il ciclo dei personaggi questa è anche un'altra grossa differenza nella visione e nella struttura narrativa dei due romanzi Q era una linea andava da un punto A a un punto B un romanzo di sé con mille vicissitudini il protagonista appunto diceva Roberto era un vettore e viaggiava e ti portava in viaggio da un punto A a un punto B compariva si diciamo manifestava dal nulla a Wittenberg nel 1917 e spariva poi nel nulla nel 1555 fantastico forse nel 900 500 e siamo lì una rivoluzione chiama l'altra Altai ha una struttura ciclica invece è un cerchio per chi non l'ha letto non faccio spoiler non dico nulla però quasi tutti i personaggi principali compiono una parabola circolare ovviamente cambiano moltissimo nel compierla non è che tornano al punto di partenza a tagli e quali anzi molto diversi con una consapevolezza molto più forte a qualcuno va fatta bene a qualcuno va fatta male questo non è importante l'importante appunto è questo passo molto più lento se vogliamo che appunto li porta a guadagnare una consapevolezza che va oltre la questione della vittoria insomma o della sconfitta immediata paradossalmente a chi va fatta male o peggio in realtà riporta un grado di diciamo di soddisfazione o quantomeno di resa dei conti con se stesso più alto rispetto a chi invece apparentemente finisce bene o se la cava infine credo che su questo vorrei ricollegarmi a quello che diceva Giovanni vorrei sottolinearlo con ancora più forza è vero che alla fine le comunità si dissolvevano in cui una dopo l'altra braccate perseguitate schiacciate eccetera alla fine il povero protagonista l'ultima comunità con cui si trovava a fare i conti erano proprio i giudei in fuga fuggiasco tra i fuggiaschi era l'ultimo passaggio che trovava appunto per scappare a Istanbul in realtà ci siamo accorti appunto che mancava qualcosa che non era sufficiente che bisognava ragionarci un po' di più su tutto questo sul fatto che quel personaggio fondamentalmente non avesse mai espiato nulla che avesse continuato sempre a rifare la stessa cosa più o meno senza capitalizzare nulla insomma ecco quel finale insomma un po' rilassato nel bazar di Istanbul a bere a bere caffè dicendo appunto altri proseguiranno la lotta rispetto al tepore dei bagni ci siamo accorti che non ci bastava non ci bastava più e in Altai abbiamo provato a dire qualcos'altro appunto e credo che a questo vecchio perché ormai è veramente molto vecchio quando lo ripigliamo in Altai lui è un figlio del secolo quindi ha una settantina d'anni che per l'epoca eri eri matusalemme però è ancora abbastanza baldanzoso ecco non è eri eri abbastanza tosto se arrivavi a quell'età nel Cinquecento beh ecco credo che alla fine lui un suo posto lui che un posto suo non l'aveva mai trovato riesca a trovarlo è un luogo mentale psichico prima ancora che fisico e geografico in cui collocarsi e di cui prendersi cura ecco finalmente lo trova e forse quello quel continuare a sbattersi in realtà fino alla fine invece che rilassarsi e affidarsi soltanto alla grande magnanimità di Giuseppe Nasi o di Joao Michez alias Joao Michez forse è proprio questo che gli consente finalmente appunto di trovare anche una sua pace sicuramente a noi ha consentito di compiere quel personaggio che per dieci anni effettivamente era rimasto appeso io volevo soltanto cioè non è proprio una domanda è più ricollegarmi a quello che dicevi tu prima sul fatto che il protagonista di Q era appunto più una pretesa letteraria per far andare avanti la storia mentre invece in Altai ha proprio un passato ricorda dalla sua infanzia così via permettendo che io Altai non l'ho ancora letto quindi mi fido di quello che dici tu e non so ancora che effetto farà a me però forse proprio per questo magari con il protagonista di Curci si riusciva a identificare un po' di più cioè non so molti si sono affezionati proprio a questo personaggio anche perché ci si ritrovava all'interno cioè tutto quello che magari non veniva scritto nel romanzo tutte le sue riflessioni su se stesso e non essendoci ce le si poteva mettere in qualche modo e quindi magari lo si poteva riempire mentre invece forse appunto non l'ho letto quindi non lo so però forse il protagonista di Altai essendo più un protagonista completo è più difficile metterci dentro la propria esperienza l'immedesimazione forte che si provava nell'io narrante di Q è dovuta proprio alla tecnica narrativa nel senso che l'io narrante è sempre in qualche modo portato a inghiottirti perché cioè tu coincidi con lui è la prima persona è quella prima persona lì sei tu cioè quando tu leggi io tu stai dicendo io tutto ti accade molto più vicino agli occhi in più c'era questa cosa quello che i critici letterari chiamano il behaviorismo cioè il comportamentismo vale a dire lì non c'era un approfondimento psicologico del personaggio perché il personaggio era le azioni le azioni che venivano compiute da lui davano come sommatoria la psicologia del personaggio quindi uno era come stare sulle montagne russe cioè uno veniva portato su e giù a grande velocità seguendo sempre quest'io narrante che ti stava incollato al cervello dall'inizio alla fine però ci sono degli io narranti in cui ti identifichi che non hanno queste caratteristiche dove non c'è il comportamentismo non so le benevole di Jonathan Littel il protagonista è un io narrante un personaggio spreggevole è un SS che fa tutta la campagna di Russia dei tedeschi fino a Stalingrado e dopo va addirittura a gestire Auschwitz però è un io narrante che rimane con te ti tiene compagnia per quasi mille pagine fittissime senza a capo e dopo un po' tu entri nel ritmo dei suoi pensieri vieni trascinato è un effetto quasi ipnotico e alla fine ti identifichi ti immedesimi che è poi quello che voleva fare Littel io sto parlando al nazista che è potenzialmente dentro chiunque quindi che è potenzialmente dentro di te quindi il fatto che uno si identifichi con un personaggio non per questo vuol dire che appunto quel personaggio è più caldo o è più freddo è una questione di tecnica narrativa a cui era costruito in modo da cioè noi ci eravamo ispirati ad alcuni diciamo così ad alcuni scrittori che fanno un uso dell'io narrante molto appunto lo usano proprio come un proiettile sono dei periti balistici dell'io narrante come non so white jazz di James Roy o Dalia Nera eccetera e abbiamo copiato quella tecnica narrativa da bravi epigoni riuscendo però a metterla in un contesto completamente diverso quindi a fare qualcosa di virgolette originale rispetto alla matrice però diciamo che il comportamentismo non ci soddisfava più è già da un po' di anni che non ci soddisfa più perché anche quella può diventare maniera anche quella può diventare una cosa stucchevole cioè il fatto che la psicologia di un personaggio venga sempre fatta dalle azioni alla fine noi rischiavamo di avere sempre dei protagonisti ai limiti dell'epilettico proprio ebbe frenici che erano sempre in azione facevano sempre una roba non andavano mai al cesso erano sempre continuamente su di giri con la tirella che gli rideva anche il culo per l'azione cioè ci siamo un po' stancati diventava un cliché ecco l'analisi la condivido però credo che ci sia una componente nella nella domanda che è interessante cioè il fatto che non avesse un passato secondo me invece è anche una parte del successo proprio di identificazione che ha avuto in quel momento storico cioè era un serbatoio di stanze cioè attraverso attraverso come dire il suo vuoto di passato uno poteva poteva vedere poteva vedere in controluce ciò che avrebbe voluto fare di se stesso e però effettivamente in quel momento storico credo che sia stato uno dei motivi del grande successo del romanzo è anche uno dei motivi per cui ha suscitato tante interpretazioni di carattere movimentista c'era un personaggio che tu riempivi del tuo desiderio di azione in qualche modo se lo fa lui perché non posso farlo io era proprio un altro momento storico sicuramente sì sì no però voglio dire c'è questo ciò non toglie che comunque c'è quel tipo di come dire quel tipo di quella che noi ora a posteriore leggiamo come una mancanza dal punto di vista della tecnica letteraria probabilmente invece dentro quel contesto storico invece è risultato adesso uno dei punti di forza del romanzo se uscisse ora proprio adesso in questo momento un nostro romanzo con un personaggio più o meno equivalente a quello di Gerda Alpozza non so se avrebbe nel 2007 che anno siamo nel 2007 ma è una cosa di famiglia lo sai che è una cosa di famiglia mio fratello mi chiama ogni tanto perché mi chiamano però il problema è che mi confonde anch'io non ho un po' perso esatto no comunque secondo me invece c'era una componente nella domanda che centrava uno dei punti lo straniero senza nome è una cosa che prendiamo dal western in realtà è una figura archetipica che fin dai tempi di Luther Blissett utilizzavamo e il Clint Eastwood per un pugno di dollari appunto sono personaggi che non hanno un nome infatti il protagonista di cui non ha un nome cioè ne assume sempre di ma tu non sai mai con quale nome è stato battezzato qual è il suo vero nome non ce l'ha e in più non ha un passato è proprio come appunto il Clint Eastwood che poi in realtà era remake la sfida del samurai Yojimbo di Kurosawa che a sua volta era ispirato a piombo e sangue di Dashiell Hammett è sempre questa storia dello straniero senza nome che si ritrova all'interno di un vortice di conflitti e in qualche modo cioè lui penetrandolo questo vortice scompiglia tutto tutti gli equilibri e poi se ne va e anche il nostro personaggio cioè partecipava a tutte le lotte e poi alla fine se ne andava e anche quello lì cioè che cominciava un po' insomma a striderci probabilmente diciamo siccome Altai come anche Q è una riflessione sull'identità non ci bastava più una riflessione sull'identità che prescindesse dalle radici che in qualche modo le tagliasse con un gesto netto fin da subito e proponesse fin da subito diciamo appunto un tipo di esperienza di identità e anche di pratica ribelle assolutamente nomade che non si confronta con con la memoria con il passato con le proprie radici che nemmeno cerca di metterle alla fine proprio perché non non le assume fin dall'inizio poi tutto sommato finisce per non riuscire a metterle ecco qui volevamo ragionare su questi due aspetti no dell'identità cioè come appunto non non darsi un'identità che sia una gabbia ma riuscire ciò nonostante a confrontarsi con le proprie radici e a mettere delle radici da qualche parte cioè è possibile radicarsi ma in qualche modo appunto non non chiudersi dentro dentro a un carcere identitario questa è un po' la domanda in cui la risposta che avevamo dato prescindeva dalle radici quindi era facile molto facile qua invece insomma ci siamo posti un problema un po' più complicato probabilmente è più realistico perché insomma i conti con le radici li dobbiamo fare allora riconosco da quando eravate Luther Blissett e facevate le fanzine gli attacchi psichici alle due torri di Kenzo Tang eccetera quindi ho la libreria ho lo scaffale dedicato a voi tutti anche i vostri libri individuali sempre ho notato in tutti i vostri libri forché in Manituan c'è una grande figura di donna che è la donna indiana non mi ricordo più come si chiama perché sono già vecchia Molly si chiama così Molly Brand ah bravo giusto non c'è posto per le donne nelle vostre opere anche in quelle individuali mi ha incuriosito quello che ha detto prima Giovanni vorrei capire non avendo ancora letto il libro questa figura di donna come appare la donna in Altai dunque Giovanni ha detto le donne compaiono poco in Altai ma in realtà tengono il baricentro della storia probabilmente questo lo si capisce compiutamente soltanto alla fine del romanzo ma credo che traspai insomma adesso in questi giorni appunto sul blog che abbiamo dedicato al romanzo stiamo dibattendo proprio di questo ora sicuramente noi sui personaggi femminili abbiamo iniziato a porci il problema da quel di più o meno all'indomani di Q dovevamo rappresentato dei personaggi femminili piuttosto stereotipati diciamo così delle donne che erano tutte bellissime intelligentissime compagne cioè avevano ogni pregio possibile immaginato totalmente irrealistiche voglio dire insomma erano delle proiezioni ideali ecco e quasi sempre anche delle di conseguenza delle propaggini delle appendici del protagonista insomma appunto le compagne del protagonista nel corso degli anni poi ci siamo posti il problema abbiamo cominciato a lavorarci su questa cosa non abbiamo ovviamente la pretesa di avere risolto questo problema ci mancherebbe altro non è anche detto che lo risolveremo mai però continueremo a cimentarci è vero che in Manituana c'era un personaggio femminile anzi ce n'erano due molto importanti una donna matura e una giovane Molly Brent e Esther Johnson c'era un passaggio di consegne matriarcale diciamo da madre a figlia putativa e lì ci veniva in conto appunto il matriarcato degli rocchesi delle sei nazioni rocchesi della cultura nativa americana come del resto ci è venuta in incontro la matrilinearità attraverso la quale si trasmette l'ebraicità no? e almeno per chi crede poi che i giudei siano un popolo in realtà c'è chi lo mette in discussione pensa che sia solo una confessione religiosa ma comunque questo non ha importanza e quindi c'è questo parallelo ma siamo convinti in Altai di aver fatto un passo avanti in che senso? nel senso che Molly Brent era ancora una sorta di madonna indiana una grande matriarca saggia che aveva fondamentalmente una buona parola per tutti che si prendeva in carico la comunità che la portava la traghettava oltre la guerra sì avevamo provato a renderla a renderla un po' più un po' più umana un po' più storica insomma dandole ovviamente sentimenti forti anche contraddittori ma secondo me non ci eravamo riusciti in maniera definita in Altai abbiamo fatto una scelta che è stata quella di raccontare senz'altro una sorta di incomunicabilità tra i generi di rappresentare appunto questa questa impresa tutta maschile di realizzazione dell'utopia e che fallisce tra le altre cose proprio come si diceva perché non riesce a confrontarsi con con l'altra metà del cielo quindi questo credo che si evinca che è un tema che ci sta abbastanza a cuore perlomeno e che proviamo a trattare narrativamente ovviamente anche anche in Altai c'è un c'è un trittico di figure femminili in realtà la matriarca c'è ma è morta appunto muore nelle prime cinque pagine ed è una presenza però costante in tutto il romanzo nel senso che aleggia su quasi tutte le scene perlomeno le scene che si svolgono al chiuso c'è sempre il suo ritratto che campeggia sopra i viventi quindi è un personaggio molto presente c'è sua figlia che in qualche modo dovrebbe essere appunto l'erede giovane dello stesso ruolo ma che in realtà non lo ricopre e poi c'è una giovane donna invece che rappresenta l'aspetto più strettamente sensuale anche della vicenda del protagonista poi ci sono ovviamente altre figure femminili che aleggiano intorno al protagonista che sono meno centrali la madre la nutrice quella che lo ha allevato da bambino eccetera in realtà il protagonista è parecchio ossessionato e circondato da figure e da spettri femminili per quasi tutta la sua vita sicuramente per quasi tutta la vicenda che raccontiamo nel romanzo però ecco certo raccontiamo una conflittualità o perlomeno un'incomunicabilità una difficoltà nel riuscire ad ascoltarsi e nel riuscire a fare assieme quello che andrebbe fatto ecco e sicuramente c'è una grande sottovalutazione a un certo punto c'è un personaggio non dirò chi e non dirò a chi lo dice comunque che pronuncia una frase dice io io e te in fondo ci assomigliamo ma io non ho mai commesso l'errore di sottovalutare una regina cioè appunto di non tenere conto che esiste tutta un'altra parte di intelligenza collettiva e questo fa di me una mi mette un passo avanti a te ecco questa è probabilmente anche una delle morali appunto del romanzo quindi insomma noi siamo fiduciosi perlomeno di avere iniziato ad affrontare la questione spinosa con uno spirito giusto poi ovviamente chi vivrà vedrà stavo notando che il personaggio scimmiesco che Bartleby usa come simbolo ha basette identiche alle mie forse è ora di svoltirle un po' non stavo vedendo ok vi siete proprio ispirati a me ah ok eh no questo fa effetto mortale ecco riguardo la questione di cui si parlava prima del passaggio da un personaggio vettore a un personaggio più a tutto tondo neanche io ho letto Altai quindi parlo per quello che ho sentito stasera io mi sono fatta alcune domande riguardo a questa questione e voi avete già cominciato a rispondere in particolare mi ero chiesta se questo centrasse soltanto e non sarebbe stato poco con un'evoluzione della vostra riflessione personale o se magari aveva anche a che fare con la diversità di contesto sociale in cui il romanzo nasce e come avete detto prima evidentemente questo cambiamento ha a che fare con la diversità dei movimenti del contesto sociale in cui ci troviamo ecco chiedendomi quale fosse quale potesse essere il legame tra il contesto e il tipo di personaggio che voi avete sentito il bisogno di delineare io mi ero detta che forse un personaggio vettore è possibile costruirlo se in qualche modo si riesce più o meno a identificare un'identità collettiva per un gruppo di persone se in qualche modo è possibile pronunciare senza eccessivi problemi un noi e forse quando invece diventa più problematico dire noi allora è necessario scendere più in profondità nella costruzione di un personaggio ecco questa è una riflessione che avevamo abbozzato giusto settimana scorsa nel nostro laboratorio di autoformazione a lettere volevo chiedervi se c'è qualcosa di vero oppure no dunque l'occasione di partenza per la narrazione in realtà ci avrebbe potuto portare direttamente a un personaggio vettore perché è uno dei topos letterari in cui i personaggi vettori funzionano di più è una fuga però diciamo l'istanza principale non è di carattere tecnico letterario ma è più che altro è un momento in cui forse per la prima volta coscientemente abbiamo sentito il bisogno di indagare quali sono i rapporti tra vita personale e produzione artistica noi molto spesso proprio per il nostro rifiuto come dire di apparire come personaggi o tendiamo spesso ad apparire come in qualche modo come personaggi disincarnati sulla scena letteraria evidentemente non è così adesso senza passare dal biaviorismo di cui parlava Roberto alla psicanalisi freudiana però è inevitabile che giunti a un certo punto del tuo percorso questa domanda cioè cosa lega quello che mi accade a quello che scrivo in qualche modo diventa importante diventa ineludibile e per farlo ci serviva un personaggio che in qualche modo raccogliesse potesse raccogliere una parte della riflessione che stavamo facendo riflessione che poi tra l'altro non è neanche mai stata esplicitata in termini chiari distinti organizzati eccetera eccetera però è stata una cosa che ha percorso tutta la stesura del romanzo quindi anche se molto probabilmente se non le persone che ci conoscono molto bene possono intravedere delle cose di carattere autobiografico cioè nonostante non ci sia dell'autobiografismo in senso stretto e però probabilmente è un romanzo in cui c'è più contenuto emotivo c'è più vissuto personale anche se è il vissuto di quattro persone questo non toglie che noi siamo partiti appunto da questa cosa qui c'era un'istanza che sentavamo di non poter eludere poi riguardo il discorso che è molto è più facile organizzare un personaggio vettore attorno a una comunità come dire attorno a una modalità plurale questo è vero cioè un personaggio con un passato non definito o un personaggio che tu impari a conoscere solo attraverso l'azione ma attraverso l'autoanalisi o la riflessione chiaramente è un personaggio che come dicevo prima commentando l'altra domanda chiaramente diventa un osservatorio di stanze dire noi diventa molto molto più facile credo che questo tipo di osservazione sia centrato però noi non siamo partiti diciamo da 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 un problema di carattere meramente tecnico ma è una delle prime volte in cui più o meno coscientemente abbiamo cercato di affrontare dei problemi di carattere più o meno interiore una domanda da basso se si può qualcuno sente ascoltiamo ti sentiamo ok dal sottofondo io ho una domanda più spiccia era come organizzate il vostro lavoro ovvero come si fa a scrivere in quattro come vivete le vostre giornate come fate insomma in quattro a scrivere un libro cioè cosa fate durante le vostre giornate cosa fate le riunioni come vi mettete d'accordo queste cose qua grazie ok allora notoriamente cosa facciamo durante le nostre giornate non è interessante diciamo ai fini ai fini del insomma del lavoro che facciamo però proviamo a a dire qualcosa insomma di come di come organizziamo il lavoro durante la fase di scrittura noi facciamo almeno una riunione ogni due giorni quindi ci vediamo diciamo tre volte alla settimana nei nei momenti in cui non ci vediamo ci scambiamo email a volte ci sentiamo ultimamente anche con skype e nei nei momenti più intensi può capitare insomma insomma che in poche ore ci scambiamo decine di email no in realtà usiamo forse perché siamo diciamo abbiamo conosciuto prima l'email usiamo più l'email come una chat da un certo punto di vista perché sappiamo che tanto in quel momento lì siamo tutti connessi siamo tutti lì che stiamo lavorando al capitolo e quindi diciamo se ne discute insieme però tecnicamente diciamo c'è una una prima fase di individuazione a grandi linee della storia che si vuole raccontare dell'ambientazione e dei personaggi che viene fatta prevalentemente attraverso una ricerca ricerca storica sui libri su fonti siti ordinando volumi su amazon o su altri su altri siti del genere andando nelle biblioteche e cominciamo a individuare qual è il contesto storico qual è lo scenario qual è l'affresco e se ci sono dei personaggi che al di là della fascinazione che in quel momento proviamo per un per un certo contesto storico sono anche dei personaggi che hanno delle potenzialità letterarie perché non sempre non sempre è così magari un periodo storico ti interessa molto ma non ti imbatti nella figura giusta con cui ti piacerebbe fare un lavoro appunto di immaginazione fino a trasformare quel personaggio storico in un personaggio letterario dopodiché c'è una 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 seconda fase in realtà chiaramente sono fasi che non si interrompono quindi la fase di ricerca continua ma quando si è raccolto materiale sufficiente c'è una seconda fase di di improvvisazione in qualche modo quasi quasi di gem session in cui con il materiale che si è accumulato si fanno dei tentativi si prova si prova a trovare un motivo dominante quindi uno magari propone una serie come si fa in sala prove che uno arriva con una successione di note un tema qualcosa e si vede se ci si può lavorare sopra allo stesso modo uno comincia a proporre delle idee un altro le sviluppa un altro viene in mente qualcos'altro e questo processo di solito sfocia in un soggetto diciamo nelle idee più chiare rispetto alla storia a questo punto cominciamo a fare una vera e propria scaletta che spesso definiamo come una specie di sceneggiatura cioè ci chiediamo che cosa davvero succede che cosa abbiamo bisogno di raccontare per raccontare quella storia nelle prime dieci scene nei primi dieci capitoli come vogliamo iniziare e ci poniamo tutta una serie di domande narratologiche anche no quale sarà l'ordine e la successione degli eventi quale sarà il punto di vista io narrante oppure no e insomma facciamo queste queste prime scelte e cominciamo a capire che cosa avviene nei primi dieci capitoli scalettando capitolo per capitolo a quel punto si passa a un'ulteriore fase che è di assegnazione quindi sulla base un po' anche del del sentimento di ciascuno ci assegniamo i capitoli quindi questo capitolo sappiamo che succede questo questo e quest'altro a grandi linee dovrà venire fuori questa idea i personaggi si scambieranno un dialogo di questo tipo e uno prova prova a scrivere quel capitolo quando lo ha finito lo manda agli altri che lo leggono e che cominciano a dare dei feedback spesso appunto per email feedback molto puntuale punto per punto cioè c'eravamo detti questo invece hai fatto quest'altro c'eravamo detti questo e hai fatto come c'eravamo detti c'eravamo detti questo ma ho cambiato questo ma ho cambiato idea in realtà in realtà ci avevamo detti una cosa che non funziona tu hai fatto quello che ci siamo detti ma io intanto mi è venuta un'altra idea e questa serie di discussione poi si materializza nel momento in cui ci rivediamo si legge il capitolo e le osservazioni che sono state fatte durante la lettura si concretizzano in tentativi anche di modifica quindi probabilmente chi ha fatto delle critiche arriva alla riunione anche con dei pezzi alternativi di capitolo pronti per un tentativo di montaggio a volte questo tentativo di montaggio funziona nel senso che ne discutiamo e sostituiamo per esempio 5 battute di dialogo che non funzionavano con le nuove 5 e poi aggiustiamo sopra e sotto per fare in modo che diciamo la cucitura non si veda molto spesso succede che invece il capitolo è da riscrivere completamente che ha dato delle indicazioni che è una prova lì diciamo il capitolo appena scritto viene affidato a Wuming 6 cioè al cestino che è il nostro sesto elemento da sempre e un altro Wuming si prende in carico l'onere di scrivere quel capitolo sulla base del capitolo precedente di quello che ci si è detti di solito quello che ha fatto più osservazioni che ha rotto più le balle si deve prendere la briga di scrivere il nuovo capitolo in realtà spesso è la Wuming ma poi spesso non andava neanche bene però il secondo capito ci sono ci sono alcuni capitoli in particolare i capitoli dove si incontrano i personaggi di Q cioè quando abbiamo cominciato a dover avere a che fare davvero con quei personaggi perché tutta la prima parte del romanzo c'è Emanuele De Zante quindi il nuovo personaggio ma quando abbiamo dovuto rimettere in scena un Ismael un Gerda al Pozzo più vecchio di 15 anni Nazi rendere conto di quello che nel frattempo era successo di che cosa era diventato il loro rapporto e mettere in scena dei dialoghi tra di loro beh lì penso che ci siano dei capitoli che sono stati riscritti dieci volte tentati dieci quindici forse anche di più con tentativi che non andavano mai bene che non ci soddisfacevano finché finché alla fine esatto finché alla fine in particolare alcuni capitoli che si svolgono a Scutari dove andremo in pellegrinaggio a Ushkudar che sono diventati motivo tra l'altro di scambi di email probabilmente che raggiungono la cinquantina di email in un pomeriggio e niente quando questo procedimento porta ad avere una dozzina di capitoli in fila noi li rileggiamo aggiustiamo alcune cose per diciamo in qualche modo avere le spalle abbastanza coperte per poter andare avanti poi quando ne abbiamo una trentina di nuovo rileggiamo dall'inizio di nuovo modifichiamo aggiustiamo e scalettiamo i successivi dieci poi di nuovo e scalettiamo quindi è un continuo tornare indietro riguardare tutto e scalettare in avanti scrivere eccetera quindi diciamo è un metodo molto diverso da quello che normalmente viene indicato nei corsi di scrittura creativa quello più banale per cui ti dicono va bene si fa una prima stesura tu un po' in automatico insomma sulla base della storia che c'hai in testa la butti giù tutta di fila in una prima versione poi dopo riprendi il materiale in mano e lo rilavori noi nel corso della stesura cioè prima di arrivare in fondo il materiale in mano lo riprendiamo veramente decine di volte ecco quindi da questo punto di vista può sembrare più meccanico come 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 metodo però è quello che con il quale ci siamo ci siamo trovati meglio anche perché il risultato che si ottiene da tutte queste mani che si sommano è primo che ormai nessuno di noi sa riconoscere esattamente che cosa ha scritto si può ricordare magari di aver fatto una versione di quel capitolo che poi però magari è stata scartata ne è rimasto cinque righe e non sa chi abbia scritto e non si ricorda se poi ne ha scritte delle altre dentro a quel capitolo mentre in altri romanzi era più facile cioè l'intervento collettivo era minore capitoli di Q io mi ricordo riesco a ricordarmi quelli che diciamo ho scritto io e poi ci sono state delle modifiche perché le modifiche erano minori adesso veramente è un procedimento è un procedimento talmente talmente minuzioso che non non è più possibile però quello che è possibile è capire che il capitolo definitivo è se tu ne avevi scritto almeno una versione sicuramente migliore della versione che avevi scritto tu ti senti che sia andato sia andati oltre e quindi diciamo c'è un c'è un elemento fattuale che ci dice che ci fa continuare siamo una band longeva perché ci rendiamo conto che il prodotto diciamo che che otteniamo da questo metodo molto spesso è un prodotto che non riusciremo ad ottenere da soli quindi si va avanti con questa convinzione sì siamo una band longeva anche perché ci vogliamo bene cioè non è solo una cosa strumentale insomma i Romons sono stati insieme una vita senza parlarsi però diciamo che poi anche gli album ne hanno risentito no addirittura in Altai è successa una cosa strana che c'è un capitolo fantasma cioè che in realtà non è stato scritto ma a cui facevamo riferimento come se fosse nella scaletta che è il famoso Scutari Zero perché ci sono tre dialoghi che avvengono a Scutari che chiamavamo Scutari Uno Due Tre però Scutari è la sponda asiatica di Istanbul di Costantinopoli però il primo dialogo che l'abbiamo riscritto ma molto più di dieci volte cioè faceva schifo non ci veniva non funzionava era legnoso alla fine hanno deciso di eliminarlo cioè quel dialogo ha luogo ma non lo facciamo vedere perché semplicemente non ci mandiamo lì a narrante però noi sapevamo che cosa era stato detto in quel dialogo era fondamentale tenerne conto perché dovevamo continuamente alludere a questo e allora l'abbiamo chiamato quel capitolo Scutari Zero e quindi continuavamo a dire questo l'hanno detto in Scutari Zero ma era un capitolo che non c'era cioè fino alla fine è come se per noi Altai ha un capitolo in più solo che non c'è ecco per dire a volte abbiamo bisogno anche quasi di allucinazioni consensuali per riuscire a lavorare ecco una domanda ma volevo tornare un attimo alla questione dei fiumi e dei deserti prima si parlava di fiumi che tentano che quantomeno tentano di attraversare i deserti di altri fiumi invece che diventano nuvole ecco mi ha fatto venire in mente il fiume di Nasi il fiume di Nasi ha creato il deserto a Cipro ci sono anche delle righe in cui si dice qui prima c'era un giardino adesso non c'è più nulla c'è completamente la distruzione quindi per ricollegarmi al tema dello sconfittismo a me è venuto in mente che il il personaggio principale si è voluto ma ha voluto giocare un gioco che è stato sconfitto perché era un gioco fatto su con delle regole sbagliate era un gioco all'interno di un gioco più grande ed era un gioco di violenza mentre l'unico che forse si salva è colui che si trasforma in nuvola e poi sceglie di coltivare il suo giardino ecco però su questo voi avete diciamo così tra virgolette glissato volevo sapere se parlerete mai della costruzione di questo giardino infatti non è il proprio specifico giardino in realtà c'è un il tema del giardino e dell'albero che viene trapiantato del seme riguarda più di un personaggio e colloca e trasferisce la storia in un altrove che effettivamente è di là da venire ma non so sinceramente se se mai avremmo voglia di scrivere di proseguire ancora quel percorso credo che sì forse tra dieci anni ma insomma credo che sicuramente ci sarà bisogno di altri personaggi eventualmente ma perlomeno la parabola di questi personaggi dei personaggi che abbiamo lasciato lì appesi per dieci anni insomma perlomeno quella è conclusa ecco e credo che appunto la morale tra essere nuvola o essere fiume sia emerga abbastanza abbastanza chiaramente insomma detto questo non so se volete aggiungere voi aggiungo solo che giusto per dire qual è l'origine no di questa di questa immagine è una è una parabola sufi che racconta appunto di un fiume nato sulle montagne che a un certo punto si trova a dover attraversare il deserto e si incaponisce a cercare di attraversarlo e sta quasi per trasformarsi in palude in questo tentativo no finché il vento non gli sussurra una possibilità gli dice lasciati appunto scaldare dal sole diventa vapore lasciati trasportare da me di nuovo su altre montagne e lì vedrai che appunto trasformato in nuvola sotto forma di pioggia tornerai ad essere un fiume no e a scorrere magari per per riuscire ad aggirare il deserto per riuscire magari a trovare una strada differente per attraversarlo no e il dubbio che viene al fiume è un dubbio identitario cioè se faccio così se mi faccio scaldare dal sole trasformare in vapore trasportare dal vento ma sarò ancora un fiume e a un certo punto gli viene in mente no al fiume il fiume ricorda di essere stato nuvola ha una riminescenza no appunto delle sue radici in qualche modo della sua storia del suo passato dice sì mi ricordo che parte di me è stato nuvola è stato pioggia quindi è una possibilità no entra in gioco quasi la memoria dell'acqua e allora questa possibilità di trasformarsi in nuvola e tentare un nuovo percorso come fiume è legata a questo passaggio al fatto che il fiume in qualche modo ricorda che quella è una possibilità e allora smette e capisce che invece cercare di insistere di attraversare il deserto in quel punto proprio quel tentativo lo trasformerebbe in qualcosa di diverso cioè in una palude oppure in un in un acquitrigno no soffocato dalla sabbia allora si lascia si lascia trasportare ma il passaggio fondamentale secondo me è in questa riflessione in questo ricordo no in questa memoria dell'acqua che gli permette di non essere semplicemente un altro fiume no semplicemente qualcosa che bene si lascia trasportare dal vento e vedremo come va no troveremo un posto dove piovere ma sa che ci sarà una continuità tra il fiume di adesso e il fiume che pioverà su quelle montagne che in qualche modo lui stesso è nato così la da basso qualche domanda intanto come state le gambe no vi vedo al limite della resistenza fisica forse è meglio che per stasera chiudiamo dunque allora prima della lettura che ci è stata chiesta dall'altoparlante magico volevo dire due cose una che se volete continuare a discutere se avete commenti sulla serata qualunque cosa su boomingfoundation.com c'è il blog il sito di Altai dove stiamo discutendo del libro insieme ai lettori c'è proprio un post che annunciava la serata di stasera e in calcio a quello sarebbe lo spazio ideale per lasciare qualunque commento domanda che vi è venuta in mente qualunque cosa e l'altra cosa è questa questo che vedete alle mie spalle noi allora intanto c'è un grafico un compagno di Milano ex del bulk che si chiama Claudio Madella detto Claudietto che fa il grafico lui ha partecipato a diversi nostri progetti ha fatto molte illustrazioni per Manituana che sono su manituana.com ha partecipato a un progetto di scrittura collettiva in cui era coinvolto Riccardo che si chiamava La potenza di Imerich che era uno spin off dei romandi di evangelisti di cui aveva fatto molte illustrazioni eccetera e qualche mese fa ci ha mandato un pdf ha detto io per celebrare a modo mio il decennale di Q ho preso un discorso che fa Pietro Perna in Q dentro una tipografia di insomma una tipografia di Oporinus la prima volta in cui si incontrano l'io narrante di Q e Pietro Perna e all'interno di questa tipografia ho preso delle frasi che dice Perna che hanno un grosso valore metatestuale insomma che parlano non solo dei libri di allora ma parlano proprio dei libri di adesso dei vostri di tutti gli altri e ci ho fatto un'elaborazione grafica e non ho i soldi per stamparlo ma insomma vi mando il pdf così noi l'abbiamo visto abbiamo detto è molto bella l'idea cioè molto bella anche la realizzazione potente stampiamolo nel senso paghiamo noi la stampa e così ce lo portiamo alle presentazioni di Altai e lo mettiamo a offerta libera semplicemente per rientrare nelle spese della stampa Claudietto l'ha portato in tipografia e ha fatto tutta una serie di accorgimenti è tutto in carta ecologica certificata al Forest Stewardship Council è fatta con fibre di recupero non è stata abbattuta nessuna foresta primaria per farla in più l'inchiostro è fatto di soia quindi è un oggetto a impatto ambientale ridottissimo la puoi mangiare perché è cellulosa sono fibre e soia è fatto su una carta bellissima adeguatamente pesante noi di solito alle presentazioni ce lo mangiamo in pubblico e così la gente si sente spronata a comprarlo la mettiamo offerta libera semplicemente per rientrare nelle spese che abbiamo avuto per stamparlo stasera invece è lì fuori nel banchetto accanto ai libri l'offerta libera la lasciamo a Bartleby grazie allora siccome abbiamo spoilerato nel senso che io ho rivelato questa cosa no no beh imbraccio a Ricky visto che ci vogliamo siccome appunto abbiamo raccontato io non so come cazzo fare aia porca siccome abbiamo raccontato della morte di Beatriz De Luna Grazia Nasi eccetera eccetera e magari chi non aveva neanche iniziato il romanzo nemmeno le primissime pagine ci è rimasto male leggiamo quelle primissime pagine così le abbiamo lette insieme e non c'è problema non sei d'accordo no vuoi dire tu vabbè si va maggiorando si va maggiorando no voi siete d'accordo non so io ho detto vabbè è già l'inizio no è per spoilerare il meno possibile uno legge l'inizio vuoi il primo capitolo va bene che palle diamo le due versioni diamo le due versioni cioè voi vi rendete conto del livello per decidere che cosa leggere quindi immaginate un capitolo che cosa produce quando lo si deve scrivere era diversa e quindi infatti dopo io verrò attaccato con 20 mail stanotte hai letto il prologo strumento eccetera vabbè e dovrò cospargermi il capodicenere allora Costantinopoli 23 giugno 1569 dalle stanze del palazzo non arrivano rumori l'alito del bosforo e il canto del muezzin accompagnano i viventi dentro la sera verso una parvenza di quiete oltre le finestre aperte il cielo è un incendio di porpora e oro barche di pescatori si staccano dall'asia e fluttano sulla corrente di miele un pensiero cattura Gracia i più grandi artisti del mondo e ne ha conosciuti molti quando era in Europa possono soltanto imitare la bellezza che ci ha dato il signore mai potranno eguagliare tanta meraviglia ha alzato la pena dalla carta ora tiene la mano a mezz'aria ha gli occhi chiusi e ascolta il canto allo spegnersi dell'ultima nota sigla e sigilla la lettera infine si rilascia contro lo schienale Dana la guarda osserva lo scrittoio le lettere già sigillate e quelle che attendono risposta sa che la signora è spossata non potrà passare la serata a scrivere come fino a poco tempo fa le forze la abbandonano e c'è ancora così tanto da fare tutti la interpellano da una parte all'altra del Mediterraneo e dell'Europa esuli in fuga ebrei perseguitati mercanti sefarditi rabbini ashkenazim aiutami dice Gracia voglio alzarmi Dana la ammonisce non dovreste stare in piedi mia signora non dovreste nemmeno stare allo scrittoio dovreste riposare Dana lo sa è la sua parte in commedia e la recita ogni sera donna Grazia ripeterà il comando la cameriera obbedirà la signora le metterà un braccio intorno alle spalle farà qualche passo nella stanza accogliendo con serenità lo scricchiolio delle giunture lo specchio della parete è comperto da un drappo verde da tempo Gracia ha abbandonato sfarzo e ostentazioni ha rinunciato a rimirarsi ma stasera scosta il drappo e guarda la propria immagine negli ultimi anni ha trascurato se stessa del suo corpo si prende cura Dana ogni mattina con la massima attenzione ha 59 anni e sulla lastra vede il viso di una vecchia rughe ai lati degli occhi e della bocca la pelle del collo rilassata e cadente il naso affilato i capelli d'argento opaco scruta le pieghe del viso cerca la bambina che una notte ricevette un nome segreto e il giorno dopo un battesimo cristiano per proteggerla dall'inquisizione Beatriz de Luna Michez nei propri occhi Gracia cerca le luci e ombre dei vicoli di Lisbona la casa dell'infanzia e della prima giovinezza il piccolo Josef che la chiamava zia ricordi la voce di sua madre il racconto di come i Michez fuggirono dalla Spagna sotto gli strati del tempo nella curva delle sopracciglia c'è ancora la fanciulla che andò in sposa a Francisco Mendez è il gran judio e troppo presto dovette seppellirlo ritrovandosi con una figlia piccola e le immense finanze di famiglia da portare in salvo questo è stata per gran parte della vita una ricca vedova ebrea in affari e in lotta con principi re e imperatori prima nei paesi bassi poi a Venezia infine a Costantinopoli nel volto della signora Dana contempla quello di un'anziana regina i cui sudditi devoti sono sparsi nel mondo da un capo all'altro negli ultimi 15 anni si è impegnata a radunarli e farli stillare una goccia dopo l'altra entro i confini dell'impero ottomano come il pastore strappa dalla bocca del leone due zampe o il lobo d'un orecchio così scamperanno gli israeliti è il primo passo del progetto più ambizioso che tra mille difficoltà prende forma laggiù a Tiberiade dove la signora vuole andare a morire lo sguardo di Dana si sposta all'esterno sul braccio di mare di fronte al palazzo si chiede se la lettera arriverà sa che è rivolta a un uomo lontano la signora accenna lui di tanto in tanto con frasi dense di amore e compassione frasi da un passato di intimità Grazia lascia ricadere il drappo la stanchezza la chiama la reclama per trascinarla a sé più a fondo e più lontano Dana la accompagna a letto e l'aiuta a stendersi le sistema i cuscini dietro la schiena le slaccia la veste poi rimangono sedute a guardare le onde e i vascelli di là dalla finestra è tempo che io vada laggiù mormora Grazia con gli occhi socchiusi portatemi con voi mia signora supplica Dana lei le accarezza il viso prende una mano tra le sue no piccola mia tu devi restare accanto a Reina tu devi vivere poi fa un cenno con il mento e indica lo scrittoio prendi la lettera affidala a chi sai grazie a tutti per la serata grazie Vuming volevo solo ricordarvi che nel banchetto di cui vi accennavano prima ci saranno anche copie del nuovo libro Altai e saranno anche in prezzo scontato rispetto a quello che trovate in libreria grazie che poche di sonno dove mangiamo merda grazie a tutti 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 grazie a tutti